Signora Ioana, io giusto a lei cercavo, sono venuto a controllare se lì hanno pulito, hanno pulito, ma come no? No, è peggio di prima perché l'erba cresce giorno per giorno. Ma come, giombetta in furmina di guerra e non ha pulito? No, no, vai a vedere se non ci credi. Andiamo subito perché poi dopo mi vado a leggere il giornale qui al parco del Somaro che dovrebbe essere aperto, oggi è domenica.